Siamo con Edoardo Gori, mediano di Mischia della Nazionale Italiana di Rugby, in una pausa del raduno premondiale. Come sta andando l'avventura della Nazionale? Adesso siamo a Villa Bassa, che è sulle Dolomiti, un posto bellissimo, ci stanno massacrando di allenamenti, è un'avventura veramente molto dura, sono passate tre settimane ora, abbiamo questa settimana di pausa e ci stanno massacrando, però dà tantissima soddisfazione. Quale obiettivo ha la Nazionale nell'avventura in Nuova Zelanda? Per questi mondiali il nostro obiettivo è di riuscire per la prima volta a superare il girone e arrivare ai quarti di finale. Sarà molto difficile perché nel girone abbiamo Australia e Irlanda, che sono due squadre fortissime, e il nostro obiettivo è battere l'Irlanda per riuscire a arrivare ai quarti. Parliamo di motori, cosa ti sembra il campionato italiano velocità? Mi sembra un evento veramente molto bello, è la prima volta che vengo a vedere un campionato così, ma mi sembra di altissimo livello, è una bellissima gara, sto provando delle emozioni nuove e bellissime. Moto e rugby, due mondi un po' diversi, ma cosa ti piace delle motociclette? Mi piace molto la passione che hanno le persone in questo ambiente, sono venuto la prima volta a vedere il moto mondiale quando era tre settimane fa e mi sono appassionato tantissimo. E poi veramente l'alto livello di questi atleti e dello staff che lavorano su queste moto, fa veramente impressione la qualità del lavoro che c'è dietro. Quindi forza azzurri in Nuova Zelanda, ma anche forza campionato italiano velocità, saluta i nostri appassionati. Un saluto a tutti e bocca al lupo per il campionato di velocità, dai!